Chi pensa che in estate termometri, antipiretici, antibiotici, fermenti lattici e cortisone possano finire nei cassetti dovrà ricredersi soprattutto quando sul lettino del medico finiscono i bambini. I pediatri allertano. Sbalzi di temperatura, colpi di calore, congestioni in acqua, diffusione di microorganismi, incontrollata esposizione al sole causano non poche reazioni, in alcuni casi anche gravi. Partiamo dall'apparato respiratorio. Il passaggio dal caldo al freddo, dagli ambienti chiusi, eccessivamente raffreddati, può abbassare le difese immunitarie della mucosa delle vie respiratorie, facilitando l'aggressione di virus e batteri che determinano laringiti e tonsilliti che spesso degenerano innotiti proprio per la presenza di agenti infettivi nelle vie aeree. La corretta igiene, ribadiscono gli esperti, si conferma soprattutto in estate l'arma vincente contro congiuntiviti, dermatiti, infezioni cutanee da funghi e anche contro le intossicazioni alimentari e le gastroenteriti. Salmonella, adenovirus e rotavirus sono i nemici da sconfiggere per un'estate senza drammi, soprattutto per i più piccoli. dolori addominali, inappetenza e nei casi più gravi vomito, diarrea e conseguente disidratazione sono frequenti nei bimbi che spesso mangiano fuori casa e possono assumere alimenti crudi o mal conservati. Massima attenzione ricordano i pediatri alle paure delle nonne di un tempo, l'assunzione di acqua e liquidi ghiacciati, il tuffo dopo un posto abbondante e le ustioni da esposizione da sole, non solo al mare o in montagna, anche nei cortili e per le strade di città.